Salve a tutti ragazzi, sono PeppeGiogamers e siamo in un nuovo video Allora ragazzi, in questo nuovo video, come avete detto dal titolo, raggiungeremo le 5 stelle Cercherò di scappare alle 5 stelle Una cosa impossibile, no, non è impossibile, però è abbastanza difficile Intanto noi vediamo che siamo già a una stella Non credo che riusciva a scappare, questa è una sfida Infatti come avete detto dal titolo, sfida 5 stelle Io dovrò cercare di arrivare a 5 stelle e resistere fino alla fine del video Intanto io uccido un po' di persone Facciamo un altro po' di casino Ma che? Ma muore Ma muore Vai che arriverò alle 5 stelle Ma che lag Io ho fatto anche un po' di casino Benissimo, ho ucciso Cavola che è abbastanza difficile 5 stelle, sì Perché Le dà un male di polizia Ehm Vediamo qui Vai perché mi spara? Intanto adesso Disegniamo un attimo Grazie Voi scrivetemi qui sotto nei commenti Se ti può Mi scrivere delle sfide Che dovrò fare Allora ragazzi Ma che? Ma che cosa Ma che cosa Non la stoppa Laura Non ti preoccupare Allora Uuuu E attenzione qui Ah ok Allora ragazzi Vi devo dare una notizia Allora Come vedete Io non facevo come I primi giorni Del Mio Canale youtube Che tipo Caricavo Più di Tre video Durante la settimana No Due mi pare Due tre E tre la domenica Però Non lo posso più fare Perché La mia connessione Non Mi sta dando dei problemi E anche quando carico I video su youtube Mi da dei problemi E quindi Non posso Tanto Tipo Fare video Quindi I video Come vedete Non stanno andando Di routine Però Comunque li carico Ragazzi Perché Non pensate Che per caricare un video Subito fai ragazzi Comunque ci vuole pazienza Tipo Per fare un video Non è che Al primo botto Palo Fai Se viene una schifezza No Tu lo devi fare Pure Tre quattro volte Basta Quindi che non lo faccio bene Io lo rifarò sempre Non lo carico su youtube Certamente Però Carico solo Quando verrà bene Allora ragazzi Come vediamo Siamo già a quattro stelle E vi devo dare anche Un'ultima notizia Un po' brutta Ehm Da lunedì Ehm Non caricherò Più video Per Un mesetto Perché Devo Io parto Vado a mare E quindi Tutto Il mese Non ci starò Tutto Luglio Io tornerò Dopo Per agosto Sì Dopo Per agosto E quindi Per un bel periodo Non potrò Caricare i video Perché In quel posto Dove vado Non facciamo nomi Ehm Non Non mi porterò Il mio wifi E poi perché Cioè la casa È in affitto Anche Quindi Non credo che ce la farò A Caricare i video Però ragazzi Se Ce la faccio Che proprio Trovo Un wifi Libero Vicino Perché vicino Alla casa Dove vado Che ci sta Un albergo Che c'ha Proprio il wifi Che si affaccia Sulla ringhiera Di casa mia E la mia stanza Sta proprio Affacciata lì Quindi ragazzi Se Il wifi È libero Riesco Per esempio A crackare Diciamo Cracare Il wifi Oppure Chiedo Se mi possono dare La password Ehm Potrò Caricare i video Se no Farò Per esempio Delle Dei video Così Di Quando io sto a mare Per esempio Con il telefono Così Guarda che tengo L'S5 Con un video Sott'acqua Ti può stare Ehm Allora ragazzi Non riesco a far scattare La quina stella Non c'è neanche Una dannata polizia Ah ecco Ma non ne tengo più Di granate No Eh Ti pareva Comunque ragazzi Io non ne tengo Di granate Perché Infatti Con un personaggio Con tutti Questi po' di soldi Come faccio A comprare Una granata Guardate Quindi Dai scherzo Comunque ragazzi Spariamo qui Spariamo qui E scatta La quinta stella Porca miseria E scatta E scatta Una stella Porca miseria Ah Via Tu Dunque ragazzi Poi Vi devo dire Che mi sono comprati Un altro gioco Cioè Metro 2033 Remix No Vabbè Una cosa di questa Che praticamente Serebbe per Per esempio Il PS4 Però È un po' modificato È un po' più bello La storia Cambia un poco Da Dalla Xbox Da La PS4 E Ragazzi È un gioco Molto bello Io aspetto Di farlo Con voi Il gioco E non lo incomincio Ah Ma che Non lo voglio Incominciare Allora Comunque la storia È un po' diversa Perché Io I gameplay Non me li sono guardati Però Ehm Ho letto Soltanto Tipo Per vedere il gioco Com'era E ho letto Che l'hanno un po' Cambiato Ma che cazzo Ho fatto Vabbè Che l'hanno un po' Cambiato Ehm È stato Un po' Modificata la storia Come gioco Dice Si dice Che è complicato Ehm Perché ho consultato Alcuni miei amici Che ce l'hanno già Ti prego Non morire Non morire Non morire Non morire Non morire Non morire Non scattare La quinta staglia No 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 Ah Ok Non me ne andate Polizia Venite qua Eccola Cavolo Ah ecco Ce l'abbiamo Ripato Già due stelline Benissimo Con un giorno Incominciamo Bene Dunque ragazzi Comunque Io non sono come gli altri Che se L'obbiettivo Fallisce Nella settimana Non è che L'ho E' facile Perché Io sono Onesto E quindi Non voglio Rovinarvi Tipo Il divertimento Che tipo Vabbè Che fallisco Che fa Basta Che vi divertiate Con il video E vedete a me Morire Che le pare Ehm Ehm Tum 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 Non che ragazzi Alla prima possibilità Non ce l'abbiamo fatta Però 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 Ehm Ti pareva Che non teniamo Io le granate Le tenevo Kaboom Forza Parabomb Allora Ragazzi Mio personaggio c'ho solo una ferita nel petto e non è morto però via 4 stelline 4 stelline 4 stelline e mi caso tutto quanto no raga basta vai che vi faccio saltare in aria no ma che cavolo che sono sti bug basta adesso uso la mia carabina speciale voglio mi gioco duro adesso arrivano anche i svuot per venire pure tutto l'esercito l'esercito no qui sono cazzi vai raga qui saltano le 5 stelline no 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 perché è impossibile davvero amo l'ultima volta qui vero? no è scompa ok ragazzi questa questa sfida questa sfida l'avete vinta voi perché avevate ragione è impossibile che io resista a 5 stelline senza neanche l'auto comunque ragazzi voi datemi altre sfide per esempio per esempio dite pepe jo fai una così questa vediamo vinciamo noi perché non credo che ce la fai ok 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 ce la fai fanno questo che cammina naturalmente con morto io sono uno sniper di merda passano a sapò intanto l'oro che vabbè va su 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 ma che su 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 quanto ci metti per ricaricare? su ma io davo in quello pesante oh oh polizia c'è la polizia sa due mesi da me devo usare il cecchino un po' comunque ragazzi vi ricordo che questo è ho l'ultimo e per l'ultimo video per per l'estate del mio canale però non vi preoccupate ragazzi forse forse perché io ah una cosa vero vero però io là dove vado non mi porto neanche la testizione un muro sempre alla quarta stella ma che cazzo c'ho ma che cazzo c'ho vabbè proviamo l'ultimo uccisione sniper elite 2 ok basta ragazzi spero che il video vi sia piaciuto condividete commentate iscrivetevi iscrivetevi vi prego mettete un bel like mettete un bel like e da Peppe Gio è tutto al prossimo video bella raga